Megatabata, 27 minuti, 20 secondi esplosivi e 10 secondi di recupero. Fai questo allenamento solo se hai una buona preparazione fisica. Buon allenamento! Ok, prepariamoci. Mobilizzazione della colonna, 20 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia, incrocio braccia-gambe. Mano al piede opposto. 5, 4, 3, 2, 1. Ora mano lunga i fianchi e scendi oltre il ginocchio. 5, 4, 3, 2, 1. Vai a sinistra. Distendi bene il braccio sopra la testa. Il piede sinistro è a 45 gradi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia, skip alto, 20 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Via! Ora a destra. Affondo laterale e mano sopra la testa. 3, 2, 1. Ora 30 secondi di saltellata, poi partiamo. Dal prossimo esercizio, massima intensità. Se non riesce a controllare perfettamente il corpo, rallenta. 5, 4, 3, 2, 1. Partiamo. Affondo indietro alternato. Velocità e controllo. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Salta. Jumping check. Tutti gli esercizi sono di 20 secondi alla massima intensità. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Durante il recupero sforza di meno possibile. 3, 2, 1. Cambio. Affondo indietro alternato. Controllo il movimento e non perde la stabilità. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Recupera. Recupera. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Affondo indietro alternato. Prima una gamba, poi l'altra. 5, 4, 3, 2, 1. Riposa. 3, 2, 1. Jumping check. Via. 20 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Vai. Prima una gamba, poi cambia. Usa le braccia per bilanciare l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1. Riposa. 3, 2, 1. Ancora jumping check. Via. Prima sequenza terminata. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Ora slancio in avanti alternato. Inizia la seconda sequenza. Cerca di toccare il piede con la mano. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Esegui lo skip alto lentamente. 3, 2, 1. Via. 3 sforbiciate giù in squat. Continua. 5, 4, 3, 2, 1. Riposa. 3, 2, 1. Ancora slancio alternato. Via. Destra, sinistra. Destra, sinistra. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Preparati per sforbiciate e squat. Atterra delicatamente sull'avampiede. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Non forzare lo skip. 3, 2, 1. Slanci alternati. Vai. Esegui bene i movimenti. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Riposa. 3, 2, 1. Via. 3 sforbiciate squat. Quando scendi il ginocchio non supera la punta del piede. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ultimi slanci. Via. Atterna la gamba e tieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. 3 sforbiciate squat. Ultimi esercizi di questa sequenza. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ora passiamo ai plank. 3, 2, 1. Via. Plank. Giù a terra e porta le ginocchia al petto. Movimento veloce e costante. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Ora plank e salto. Scendi in plank. Sali e salta. 5, 4, 3, 2, 1. Riposa. 3, 2, 1. Cambio. Passo incrociato all'indietro. Fai un piccolo salto laterale per cambiare lato. 5, 4, 3, 2, 1. Riposa e riniziamo questa sequenza. 3, 2, 1. Plank in movimento. Atterra i ginocchia al petto. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Plank più salto. Vai. Vai. Controlla il salto e l'appoggio delle mani a terra. 5, 4, 3, 2, 1. Riposa. 3, 2, 1. Cambio. Passo incrociato dietro e salto laterale per cambiare lato. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ora ripetiamo la sequenza. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Giù in plank e ginocchia al petto. Tieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Plank e salto. Controlla bene la fase di posizionamento in plank e la salita. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ora facciamo una pausa e continuiamo con la seconda parte dell'allenamento. 3, 2, 1. Durante questa pausa respira profondamente. Ricorda sempre che l'esecuzione dei movimenti deve essere precisa. Se non controlli i movimenti rallenta la velocità. 5, 4, 3, 2, 1. Salta. Apri, chiudi e mano a terra. Cambia mano ad ogni salto. Salta. Salta. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Cambia. Porta il ginocchio verso il gomito opposto. Non curvare il corpo. Non curvare il corpo. 5, 4, 3, 2, 1. Riposa. 3, 2, 1. Salta. Apri, chiudi e mano a terra. Ancora. Atterna la mano. 5, 4, 3, 2, 1. Riposa. 3, 2, 1. Incrocio il gomito ginocchio. Via. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera energie. Piccola corsa sul posto. 3, 2, 1. Ancora salto. Apri, chiudi e mano a terra. Prendi il ritmo e mantienilo. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Incrocio il gomito ginocchio. Vai. Alterna destro e sinistro. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Ultimo salto. Vai. Apri, chiudi e mano a terra. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Porti il gomito verso il ginocchio. Vai. 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 5, 4, 3, 2, 1. Recupera e preparati per l'ultima sequenza. 3, 2, 1. Iniziamo. Salto laterale e giù a terra. Tocca il pavimento con le mani. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Mantieni sempre il controllo del corpo. 3, 2, 1. Cambio. Ora spostamento a laterale, a destra, poi a sinistra e giù in plank. Dai, non mollare. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Saltello laterale e mani a terra. Ora ripetiamo sempre questi due esercizi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Via. Spostamento a destra, a sinistra, più plank. Scandisci bene i movimenti. Non andare troppo veloce. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. 3, 2, 1. Saltello laterale e giù a terra. Recupera. Dai, dai, dai. Manca poco. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Cambia. Ancora spostamento laterale, destra, sinistra, poi plank. 5, 4, 3, 2, 1. Respira. 3, 2, 1. Via. Saltello laterale e mani a terra. Mancano solo due esercizi. Non mollare. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Ultimo spostamento e plank. Coordina bene il movimento ed è il massimo. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 3, 2, 1. Ultimo salterlo e mani a terra. Via. Su con le gambe quando salti. Ancora 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Rallenta. Ottimo lavoro. Ora respira e segui l'esercizio lentamente. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Gambe divaricate e scendi lateralmente. Stiamo recuperando. Fai l'esercizio lentamente. 5, 4, 3, 2, 1. Mobilizzazione della colonna. 20 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Prendi con la mano il piede destro e tieni la schiena dritta. Respira e non perdere l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1. Prendi con la mano il piede sinistro e non sbilanciarti in avanti. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Gambe divaricate. Mani in appoggio dietro le caviglie e scendi frontalmente. Se vuoi porta le mani in appoggio. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Incrocia la gamba sinistra e scendi frontalmente. Fuori l'aria e respira. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia gamba. Cambia gamba. Incrocia la destra e respira. 5, 4, 3, 2, 1. Gambe divaricate e respira profondamente alzando le braccia. Portare a termine quest'allenamento non è una passeggiata. Complimenti. 5, 4, 3, 2, 1. Il tuo allenamento è terminato. U beliefs i uncorrido. 6, 3, 4, 3, 1. 2, 1. 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Grazie per la visione!